Il sentiment dei mercati è positivo, grazie soprattutto alle buone notizie che arrivano dagli USA. Occhi puntati anche sulle mosse della Fed, che dovrà prendere decisioni importanti nei prossimi mesi per fronteggiare l'inflazione. L'Europa non riesce a tenere il ritmo della campagna vaccinale americana, ma riscuote comunque un discreto successo dagli investitori. 1. La fiducia dei mercati aprile ha visto il consolidamento del trend positivo dei mercati che ha chiuso il primo trimestre dell'anno. Addirittura, l'indice standard EAMP, PUR 500 ha superato quota 4.000 punti per la prima volta nella sua storia e ha continuato a consolidarsi, sfiorando anche i 4.200 punti. 2. Gli USA tornano a correre già lo scorso mese e gli Stati Uniti avevano lanciato segnali molto positivi, che si sono rafforzati ad aprile. Tanto che i rendimenti del T-Bond americano a 10 anni sono quasi raddoppiati dallo 0,9% di gennaio, per poi attestarsi sopra quota 1,6% nella fine del mese. Numeri importanti grazie alla crescita record di 7 punti del PIL americano nel 2021. I mercati hanno particolarmente apprezzato l'efficace campagna vaccinale messa in campo dal governo Biden, ma anche il pacchetto di stimoli fiscali da 1.900 miliardi di dollari. 3. Spread BTP Bund in crescita Gli investitori hanno dimostrato notevole interesse anche per le collocazioni del Dipartimento del Tesoro. Di inizio aprile, le due emissioni di titoli di Stato a 7 e a 50 anni hanno ricevuto molte richieste, tanto che hanno chiuso il collocamento per un totale di 12 miliardi di euro quando la domanda degli investitori è arrivata fino a 130 miliardi. Ma lo spread tra il nostro BTP a 10 anni e il Bund tedesco continua ad ampliarsi. Siamo arrivati oltre i 106 punti base. 4. La strategia della Fed la Federal Reserve in questo momento ha due problemi. Raffreddare l'inflazione che sta tornando a correre negli USA e favorire il recupero dei 10 milioni di posti di lavoro persi a causa della crisi innescata dal Covid-19. Ha deciso quindi di favorire il recupero dei posti di lavoro chiudendo temporaneamente un occhio sull'inflazione in eccesso. I mercati però guardano con curiosità alle mosse future, soprattutto collegate all'inflazione. I prossimi mesi vedranno una crescita del costo della vita del 3% ma, quando questa crescita rallenterà, Powell dovrà valutare se e come rivedere la strategia di acquisto. Ancora settata sui 120 miliardi di dollari al mese. 5. Le mosse dell'Europa e il rilancio dell'economia europea è in ritardo rispetto a quella americana di almeno due trimestri, eppure l'azionario ha riscosso successo. Questo perché gli investitori hanno compreso l'efficacia dei vaccini e, nonostante il ritardo nella campagna vaccinale e la differenza di organizzazione tra i vari paesi, hanno quindi premiato il vecchio continente. Va segnalato che i tassi di interesse hanno mantenuto un profilo più basso rispetto a quelli americani perché l'inflazione in Europa non è paragonabile a quella statunitense ed è ben al di sotto dell'obiettivo della BCE. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S.A. 6b. Rudufort-Niedergrenod, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una Offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative.